13 persone sono state denunciate dai carabinieri nel Regino per violazioni delle leggi in materia edilizia con esecuzione di interventi in totale difformità del permesso di costruire o nell'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. I militari hanno controllato e sottoposto a sequestro preventivo per inottemperanze alle norme edilizie ambientali diverse abitazioni, relative pertinenze e strutture realizzate in violazione dei vincoli paesaggistici e di rischio sismico oltre che varie attività commerciali, in particolare il risultato è che un'impresa avrebbe praticato lo smaltimento non autorizzato di rifiuti liquidi, carcasse di elettrodomestici e moto d'acqua. In un altro rimessaggio è stata verificata l'occupazione abusiva dell'area demaniale marittima esterna con 15 barche e carrelli e ancora in un esercizio commerciale è stata rilevata la presenza all'interno di una piscina costruita abusivamente in violazione dei vincoli paesaggistici e ambientali. Sequestrato anche un terreno adibito a discarica di rifiuti speciali con materiali inerte, rottami di autoveicoli estesa per circa mille metri quadri in località Mortara San Leo.